Quindi i dieci segnali diciamo per capire che una persona è malvagia e manipolatrice sono segnali a cui devi prestare attenzione e il primo segnale appunto tra questi dieci è proprio quello della disomogeneità di comportamenti. Quindi tu devi osservare un po' nel tempo la persona perché le persone manipolatrici sono camaleontiche quindi cambiano non hanno diciamo e sono anche malvagie non è detto che uno non deve mai cambiare idea non deve mai cambiare atteggiamento modo di fare però le persone che adattano il loro atteggiamento alla situazione per portarti dove vogliono loro fondamentalmente. Quindi nel tempo noterai che ci sono dei grossi cambiamenti soprattutto cambiamenti di atteggiamento nei tuoi confronti. Ecco questo è un primo segnale le persone che non manipolano hanno possono cambiare idea sicuramente nel tempo ma hanno una loro stabilità e questo è molto importante capire perché le persone che sono state nonostabili ovviamente ti danno una sicurezza ti danno una grande sicurezza invece le persone malvagie manipolatrici hanno un po' questa caratteristica. E poi il secondo segnale da tenere presente è che nella prima fase di conoscenza sembrano le persone perfette perché mettono in atto quello che fanno anche i narcisisti poi che è il love bombing. Questo è un altro secondo segnale importante cioè nella prima fase della loro conoscenza fanno sono abili nell'arte della magliare appena gli incontri e talvolta mettono in atto dei comportamenti anche diciamo particolari no cioè questo a seconda dipende un po' da come ti giudicano però potranno anche farti fare delle cene costose dei complimenti assoluti sei bellissima sei fantastica sei una donna eccezionale sei stupenda e da un certo punto di vista ti fanno abituare però collegandoci al primo punto che era la disommaginità nei comportamenti purtroppo tu ti abituerai e queste cose non dureranno non dureranno ma finiranno e qui scatta il terzo punto il terzo segnale che è una persona malavaggio e malavaggio e malavaggio finiranno e lui o lei adesso io parlo di un lui però potrebbe essere anche una lei perché è sempre ambivalente la cosa ti farà vivere i sensi di colpa e ti farà vivere i sensi di colpa nel senso di ho adeguato ho cambiato il comportamento perché tu hai fatto qualcosa che non avresti dovuto fare e quindi il senso di colpa è proprio un'altra caratteristica basic diciamo delle persone che possiamo definire malvagie e manipolatrici tieni presente che questi sensi di colpa te li faranno vivere in tutte le salse e questo è un terzo segnale molto importante un quarto segnale che devi tenere presente è la drammatizzazione cioè le persone manipolatrici e quindi anche malvagie sono anche talvolta degli attori delle attricinate gasman drammatizzano la cosa magari c'è evidenziano una piccola cosa che secondo loro tu hai fatto che non avresti dovuto fare e la esaltano la fanno diventare chissà come se fosse qualcosa di assolutamente sbagliato hanno proprio questa caratteristica di drammatizzare di sceneggiare ecco questo è un altro un quarto punto che dovresti tenere in considerazione perché è indicativo insomma delle persone comunque manipolatrici e un quinto punto è che non sanno ammettere di aver sbagliato c'è un modo giusto e un modo sbagliato di fare le cose le persone manipolatrici credono di fare sempre le cose nel modo giusto alla perfezione anzi più che giusto alla perfezione mentre voi avete sempre torto anche se ti diranno qualcosa diciamo tu non farai bene le cose che avresti dovuto fare hai sempre torto è un sesto comportamento da tenere presente veramente micidiale e che le persone malvagie ti umilieranno in pubblico e qualunque cosa tu farai verrai proprio umiliata verranno amplificati i tuoi errori che per loro non saranno semplicemente degli errori ma sarete colpevoli di chissà quali e sarete accusati in pubblico tra l'altro di essere stupidi stupide o incompetenti incapaci impediti e mentre loro si presenteranno sempre nel modo migliore e questo è un'altra cosa molto importante da tenere presente una settima caratteristica un settimo comportamento delle persone malvagie manipolatrici è l'invidia in primis saranno invidiosi dei vostri rapporti con gli altri anche dei vostri rapporti con i vostri familiari con i vostri genitori con i figli se avete figli insomma dei vostri rapporti con gli altri è una questione di controllo perché il fatto che voi abbiate buoni rapporti con altre persone secondo loro ovviamente è sottrarre attenzione a loro stessi e quindi se ti sottraggono attenzione tu sei fregata praticamente e quindi ti... cioè se ti sottraggono attenzione si sentono fregati, si sentono messi da parte quindi stai molto attenta quando cercheranno di comunque isolarti o di parlare delle altre persone poi un'altra caratteristica delle persone malvagie è che la loro empatia è molto limitata possono avere un'empatia cognitiva cioè se vedono che tu soffri non provano empatia per te anzi cercano di sfruttare la tua sofferenza per ottenere loro dei risultati per portare a casa dei risultati per controllarti quindi questa è un qualcosa di molto importante un nono... una nona caratteristica è che i vostri bisogni i tuoi bisogni, le tue richieste non contano saranno sempre in secondo piano loro, le persone malvagie, anzi cercano di danneggiarti cercano di distruggetti, non ti sponsorizzano cercano di metterti in basso tra le ruote cercano di rovinarti la vita e quindi i tuoi bisogni se ne fregano le tue esigenze se ne fregano il loro potere glielo dai tu comunque non è che se lo vanno a cercarlo da qualche parte il potere, la cosa peggiore è che glielo dai tu perché diciamo il tuo coinvolgimento, quello che ti frega e un altro punto fondamentale per riconoscere le persone malvagie è che danno dei segnali di gradimento emotivo quando qualcuno soffre, quando qualcuno sta male cioè gli dice ah tizio è... che ne so ha avuto un grave incidente allora sì mi spiace molto che abbia avuto un grave incidente cioè danno dei segnali anche su terze persone quindi hanno un sadismo se vogliamo così definirlo dentro ora non è che devi vedere tutti questi segnali però questi segnali ti indicano veramente che hai a che fare con una persona malvagia con una persona manipolatrice per questo video è tutto seguimi su Instagram Massimo Tramasco Ufficiale su TikTok e ti ricordo di iscriverti a...